buonasera a tutti benvenuti ci siamo anche stasera in italia tutto quello che facciamo ha senso se ha un futuro e il futuro è negli occhi dei giovani il futuro è attraverso chi verrà dopo di noi per voi che siete napoletani o siete comunque campani capire le parole i testi di Pino Daniele è una cosa automatica ma mi sono reso conto che moltissimi non si sono mai preoccupati del fatto che noi romani o torinesi o ragazzi fiorentini cantavano Pino Daniele senza sapere cosa dicevano io ho cantato lo dico in quel monologo ho cantato e ognuno aspetta la ciorta non mi sono mai manco posto il problema di cosa fosse la ciorta ho cantato sei su friga c'è la currea non mi sono manco posto il problema di che cos'era la currea lo cantavo e basta l'italian movie award questa serata questi dieci anni dimostrano che poi le persone fanno la differenza tu hai fatto la differenza in questo territorio ti meriti gli applausi quanto ce li meritiamo noi e per noi che lavoriamo nel cinema è proprio attraverso personalità come la tua che secondo me possiamo allargare il nostro bacino di utenza la cosa bella di questa serata è che non è è nata spontaneamente perché ci sono dieci anni dietro le spalle e quindi ripeto questo è molto interessante sicuramente non puoi amare il cinema come lo ami te senza respirarlo e qui si vede che a te piace il percorso visuale del cinema e anche fammi dire fare delle cose provocatorie però questa cosa è visionaria più di quanto non potrà mai essere il tuo cinema quindi complimenti veramente per quello grazie a tutti Grazie.